Benvenuti, cari follower, prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di sostenerci mettendo mi piace a questo video e condividendolo con tutti per farlo funzionare. Il vantaggio è per evitare maltempo e improvvise condizioni meteorologiche, se a partire da domani e per tutta la prima settimana di giugno 2023, da domani e per tutta la prima settimana di giugno 2023 un'allerta molto severa per tutte le regioni d'Italia, dal nord al sud dal pericolo di temporali molto forti che colpiranno ininterrottamente tutte le regioni d'Italia e questo soprattutto durante il pomeriggio di questi forti temporali porterà con sé una precipitazione di chicchi di grandine di piccole e grandi dimensioni e anche piogge molto abbondanti in un breve periodo di tempo, che possono portare alla formazione di torrenti e inondazioni in alcune zone improvvisamente, e quindi a partire da domani sera almeno fino al 7 giugno 2023. 3. Massima prudenza e prudenza, soprattutto nel periodo serale, come dicevo, c'è il pericolo di temporali che saranno molto attivi in tutte le regioni d'Italia, soprattutto nelle regioni del centro-sud e, in misura minore, delle regioni settentrionali, dettagli più precisi saranno attesi in seguito, alla fine godete di buona salute!